Cambiano da oggi gli orari di conferimento al centro di raccolta in Contrada Camarella. Già da oggi alle 7 del mattino è stato possibile per i residenti conferire i rifiuti. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 14 ci sarà il conferimento libero e dalle 14 alle 19 sarà possibile conferire i rifiuti su prenotazione. Questa variazione dell'orario è stata effettuata per rendere più efficace e rapido il servizio di raccolta nella Contrada. Modifica che rientra in un piano condiviso con l'amministrazione comunale. Ben due i numeri dedicati a chi vorrà conferire i propri rifiuti nel pomeriggio solo con prenotazione ai numeri 0934 58 47 09 oppure chiamando il numero verde d'asti 800 164 722.